La settimana perfetta di Edilnolp alla canestro Biella si conclude con la terza vittoria in dieci giorni, dopo Tortona e Siena e Trapani la vittima sacrificale sull'altare del Biella Forum. Grazie ad una prova maiuscola i ragazzi di coach Carrea si portano subito in vantaggio e tengono uno stretto margine di qualche punto fino alla fine del terzo quarto. Nelle prime partite della stagione Edilnolp crollava nel finale ma ora da qualche match è esattamente il contrario grazie a tanti fattori. Una condizione fisica migliore, una condizione mentale invidiabile e una panchina allungata grazie al rientro di Massone che fa rifiatare quando serve il play titolare Saccaggi non a caso risultato a fine partita il man of the match. Ecco che negli ultimi dieci minuti Biella quindi prende il largo e poi con una solida difesa si mantiene in vantaggio. Il giorno dopo ecco quindi un'atmosfera rilassata e felice alla cena degli auguri con gli sponsor e i media partner per una stagione partita con qualche difficoltà ma che ora vede Edilnol in terza piazza per i merito in piena zona playoff nel campionato dia 2. Mentre alla cena degli auguri si è palesata la presenza di un nuovo e solido assetto societario e manifestata l'amarezza per la poca attenzione delle istituzioni verso il movimento cestistico il campionato vedrà la prossima partita al forum per il 30 dicembre contro Cassino. Una ulteriore vittoria lancerebbe in orbita la squadra e per questo motivo il presidente Massimo Angelico ha fatto appello alla popolazione bielese per una massiccia partecipazione al Biella Forum. Il caldo pubblico dei tifosi è sempre il sesto uomo in campo. Ci fa molto piacere venervi tutti voi e spero anche di venervi a paranziatore domeniche. Voglio fare solo gli auguri di buon Natale da tutta la squadra e tutta la società. Spero che sia un anno ancora più bello di questo. Grazie.